Oroscopo del giorno. Martedì 16 gennaio 2024. Ariete. Amore, tutto andrà alla grande durante questa giornata perché Venere sarà nuovamente in posizione favorevole. Un bel martedì per chi è in coppia ma anche per chi è single. Lavoro, problemi e scogli da dover superare sul posto di lavoro. Mercurio e Marte non vi aiuteranno per niente. Toro. Amore, un nuovo giorno senza grandi sorprese in amore. Le relazioni continueranno ad andare per la loro strada mentre per i single difficilmente ci saranno degli incontri nuovi ed importanti per il domani. Lavoro, Mercurio e Giove saranno entrambi in posizione favorevole e vi porteranno novità lavorative. Gemelli. Amore, tutto tace in amore, almeno fino a che fra una decina di giorni la posizione di Venere non tornerà favorevole. Per ora cercate di godervi con serenità quelli che sono i vostri rapporti attivi. Lavoro, Mercurio sarà in opposizione e sul posto di lavoro i problemi saranno assai durante questo martedì. Cancro. Amore, un giorno difficile e con molte discussioni animate in amore, per qualsiasi rapporto. La posizione di Venere sarà opposta e vi reccherà tensioni con la persona che avete al vostro fianco. Lavoro, Marte sarà in opposizione e le energie basse non vi aiuteranno di certo a risolvere i vari intoppi professionali. Leone. Amore, passione alta durante questo martedì di gennaio per tutte le coppie. I single non dovranno preoccuparsi perché la buona posizione di Venere riserverà qualcosa di speciale anche per loro. Lavoro, nonostante qualche problemino, potreste raggiungere un buon risultato lavorativo. Vergine. Amore, sentimenti bassi perché la posizione di Venere non sarà favorevole e nemmeno fortunata. Meglio non andare a discutere troppo con la persona che si è accanto. Lavoro, sarà un martedì del mese con una ottima posizione di Mercurio che vi sosterrà sul posto di lavoro e vi offrirà nuove occasioni. Bilancia. Amore, il pianeta dell'amore sarà favorevole durante questa nuova giornata di gennaio. A voi non resterà altro che godervi le belle emozioni che Venere vi offrirà per oggi. Lavoro, ci saranno problemi, intoppi ed anche rallentamenti professionali. Purtroppo Mercurio non vi aiuterà molto durante questo martedì. Scorpione. Amore, la giornata non sarà una di quelle da ricordare ma questo non significa che nei rapporti ci saranno problemi importanti o impossibili da risolvere. Dovrete però attendere una posizione di Venere più favorevole. Lavoro, mantenete la calma ed evitate di correre troppo. Sagittario. Amore, un nuovo giorno tutto da vivere in compagnia della persona che amate oppure di una conoscenza tutta nuova se invece siete single. La posizione di Venere sarà assolutamente favorevole per oggi. Lavoro, meno buone nuove per il lavoro. La posizione di Mercurio infatti non sarà così attiva per voi. Capricorno. Amore, Venere tornerà nel segno tra un bel po' di giorni. Al momento dovrete cercare di vivere i vostri rapporti con una maggiore serenità per non incorrere in conseguenze negative. Lavoro, Mercurio e Marte in congiunzione vi offriranno buone possibilità professionali per oggi. Acquario. Amore, giornata dedicata all'amore, ai rapporti e ai sentimenti. La posizione di Venere sarà tutta favorevole per voi e per la persona che avete al vostro fianco. Lavoro, la posizione di Mercurio vi aiuterà parecchio ma attenzione a quella di Giove. Tesci. Amore, potrebbe esserci qualche problemino per alcuni rapporti mentre altri avranno un martedì decisamente stabile e poco movimentato. Lavoro, con le energie giuste che vi darà Marte, questo potrebbe essere un martedì lavorativo tutto da poter sfruttare al massimo. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale, e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie